Ciao bambini! Vi va di cantare con me? Questa la conoscete? Io vi dico una parola e voi mi rispondete con la sua iniziale. Siete tutti pronti? Dai! L'inizio dell'ape e della barca della casetta del dinosauro. Un elefante se ne va in Francia a fare una gita e dorme in hotel. Che bello cantare tutti insieme! A prestissimo! Ciao ciao!